Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale BreakTech. Nuovo video, oggi parliamo di lui. Oggi recensione completa dello Sharp Aquos R9, lo so che lo stavate aspettando perché lui è una chicca, ragazzi, è veramente una chicca assurda. Adesso qua tolgo internet perché veramente non mi lasciano vivere, arrivano 350.000 messaggi, ma voglio adesso raccontarvelo, quindi recensione completa di un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, ragazzi, e sono convinto che piacerà anche a voi. Prima di iniziare, come sempre, come al solito, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, lo sapete, e voglio che venite a trovarci nella nostra community, la community più bella d'Italia, mi raccomando, vi lascio qui il code core per quanto riguarda Telegram perché siamo sempre di più, stiamo crescendo, e il fatto che voi riuscite a lasciare like, commentare sotto anche questo video, aiutate al mondo, perché ti cresce, perché stiamo crescendo veramente tanto, io vi ringrazio di cuore. Ma adesso partiamo, perché di cose da dire su questo musticiatolo, ragazzi, ce ne sono veramente, veramente tante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, io direi di partire con l'estetica, l'avete visto, ve l'ho mostrato in tutti i suoi dettagli, lui è molto elegante, è un telefono che a me è piaciuto tanto perché è sottile, perché è leggero, pesa sotto i 200 grammi, perché è costruito in alluminio tutto il frame, con questo frame lucido, che a me piace tanto, anzi, opaco, che a me piace veramente tanto come dettaglio, dietro abbiamo poi la back cover in vetro, bello che spezza con questo oblò piccolino, dove non chiude le due cam posteriori, posizionate un po' in una posizione un po' strana, particolare, può piacere come no, però almeno è qualcosa di diverso, ragazzi, è qualcosa che non assomiglia a tutto il resto della matassa degli smartphone, che quest'anno saranno tutti, tutti identici. Poi però lui si gira e si vede questo pannello, questo spettacolo di schermo da 6.5 pollici, che ragazzi è una goduria. Ma lato costruttivo, comunque, promosso per i voti, ha delle particolarità come l'impronta digitale posizionata sul tasto on off, quindi fisico, è un'impronta che funziona 10 volte su 10, se volete però potete anche abilitare lo sblocco 2D. E poi abbiamo anche la possibilità di togliere la sim tramite uno slider, e non c'è bisogno di mettere il pinturicchio, un po' stile Sony, questa cosa mi è piaciuta. Tra l'altro lui è il P68, quindi ha la certificazione per acqua e polvere, quindi veramente non gli manca niente, audio stereo, qua sotto abbiamo lo speaker, qua sopra pure, e devo dire che poi anche dell'audio vi devo dire due cose, perché ha delle chicche che non ho mai visto in altri dispositivi, quindi ci sta. Ma adesso partiamo a parlare del punto forte di questo Sharp. Io perché l'ho voluto provare? Perché ho detto, non ho mai avuto uno Sharp, ma ne ho sempre poi sentito parlare bene, soprattutto per la loro particolarità più grande, ovvero il refresh rate del display. Lui, come i suoi predecessori, ha un refresh rate, ragazzi, da 240 Hz, cioè una roba mostruosa. Se fate caso che tutti i telefoni top di gamma, super top di gamma, qui in Italia, vengono venduti con uno refresh rate a 120 fps, tranne iPhone, che i nuovi iPhone 16 hanno il 60 fps, va bene, non ne parliamo, ma questo arriva a 240, cioè, capite, una roba allucinante, ci sono i gaming phone che arrivano a 144, i Motorola che hanno anche 144 fps, lui arriva a 240, questo fa sì che tutto l'ecosistema, tutto l'utilizzo di questo dispositivo, come viene utilizzato, la sua velocità, siano veramente una roba fuori da ogni logica, perché lui è un fulmine, ragazzi, è velocissimo. Ma il display poi ha qualità, è un GZTO, se non ricordo male, comunque vi lascio adesso uno slide per farvi capire meglio la qualità, è la tecnologia utilizzata da Sharp, è un AMOLED, e ha una risoluzione veramente bella, soprattutto una luminosità pari a 1500 nits, che si vanno a definire praticamente che nell'utilizzo quotidiano, ragazzi, sotto la luce del sole lui si vede meravigliosamente, ha delle impostazioni dedicate al display, dove possiamo andare a tagliare i colori, cambiare praticamente la tonalità, possiamo abilitare anche la possibilità di non affaticare gli occhi, tramite l'impostazione Clear View, e poi possiamo fare, questa cosa l'ho trovata abbastanza particolare, per quanto riguarda proprio il refresh rate, non c'è la possibilità di abbassarlo, quindi non possiamo mettere tipo 60, 90, 140, 240, lui è fisso a 240, con la particolarità che possiamo però abilitarlo su tutte le applicazioni che noi vogliamo, quindi se noi vogliamo un telefono che gira con un refresh rate automatico più basso di 240, lo andiamo a disabilitare nelle applicazioni che a noi non ci interessa, se lo vogliamo invece al massimo della potenza, lo abilitiamo automaticamente su tutte le app, e lui sarà sempre a 1000 come display, io ovviamente l'ho abilitato, anche perché poi vi parlerò della batteria e non è un problema, ed è una goduria ragazzi, è proprio una goduria, lato qualitativo è un display bellissimo, a me è piaciuto tanto, il fatto che ha questi bordi super ottimizzati, me le ha fatto veramente innamorare, perché lui è un Nubia, praticamente è un Nubia che abbiamo visto lo Z60 Ultra, tipo, anche se quello non ha la cam frontale, perché c'è sotto il display, ma lui ha lo stesso front factor, ma è più piccolo, più leggero, più sottile, quindi top, top, assoluto. Parliamo poi di connettività, lui ha una connettività da Champions League, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, abbiamo la banda 20, quindi lui ha anche la banda 20, quindi nel nostro paese non ha nessunissimo problema, qualitativamente vi dico che, per quanto riguarda GPS, Bluetooth, non ci sono problemi, funziona alla perfezione, anche ottimo il Wi-Fi, che prende benissimo, ricezione perfetta, io l'ho utilizzato in giro, al lavoro, ormai ho avuto problemi per quanto riguarda i hot team, qualità in chiamata perfetta, ci sentono benissimo dall'altra parte, noi sentiamo molto molto bene, tra l'altro il sensore di prossimità funziona anche bene, quindi riconosce quando ne stiamo chiamando, e non va ad accendere il dispositivo, in modo strano, quindi dovrebbe avere comunque un sensore, quindi fisico, e non strano, come abbiamo visto su certi Xiaomi. E processore invece, parliamo di processore, perché lui a sorpresa non monta l'ultimo Qualcomm, lui monta uno Snapdragon 7 Plus Gen 3, processore a 4 nanometri, secondo me una scelta azzeccatissima, perché con un display del genere, con una refresh rate del genere, è un processore a 4 nanometri, che non è super pompato, che però fa sì che lui gira benissimo, è un insieme vincente, perché lui non scalda, ma è super veloce, super reattivo, non ha problemi, ha anche una scheda video, che non è così male, permette di far girare, praticamente tutti i titoli giochi che troviamo su Play Store, senza nessun problema. Quindi è una scelta che io ho apprezzato, anche perché bravissima Sharp, che qui però ci ha messo le memorie velocissime, le ultime che ci sono in tecnologia, quindi abbiamo UFS 4.0, abbiamo memoria LPDDR5X, quindi velocità, potenza, allo stato puro. Ed è una scelta che mi è piaciuta, tra l'altro lui sotto alla back cover, abbiamo anche un sistema di dissipazione, di dissipazione praticamente del calore, che fa sì che quando andiamo a usarlo veramente tanto, a giocarci tanto, lo utilizziamo tanto, lui non scalda praticamente mai. Questo è un successo importante per Sharp, perché con il precedente, top di gamma, l'R8S, mi sembra che era una bestia, anche quello con un display a 240 Hz, quello diventava un forno, mentre lui rimane sempre fresco, quindi questa cosa l'hanno migliorata veramente tantissimo. Parliamo poi di software, perché qua mi ha stupito, Sharp arriva, cioè viene presentato in Giappone, esce soltanto lì, non c'è da qua da noi, mi sembra che viene venduto anche in India, però io che l'ho acquistato, perché sono un malato di tecnologia, a me questi prodotti mi fanno proprio impazzire, sono rimasto sorpreso, perché praticamente ragazzi è un pixel, lui è un pixel a 360 gradi, perché ha una ROM proprio Google Stock, ma Google Stock, non ci sono applicazioni cinesi, non c'è nulla di cinese, non c'è niente, qua c'è l'italiano nativo, abbiamo tutta la ROM proprio nativa di Google, dove troviamo le impostazioni di Google, cioè è proprio un pixel a tutto e per tutto, anche i widget sono quelli, e funziona alla perfezione, qua da noi funziona alla perfezione, avendo anche la banda 20, non abbiamo problemi in nulla, funziona il wallet, funziona l'NFC, funziona, devo provare, ho provato Android Auto, dove, allora, sulla mia macchina mi ha dato problemi, ma secondo me funziona, perché io ho notato che devo cambiare il cavo, perché l'input me l'ha dato, solo che poi si è disconnesso, quindi secondo me Android Auto funziona anche qua sopra, e sarebbe ottimo, lì poi ve lo scriverò nei commenti, lo metterò anche nel gruppo, perché devo cambiare il cavo, una volta che lo cambio, lo proverò, vi dirò con certezza, ma funziona tutto alla perfezione, è un software pulito, un software velocissimo, il pixel, la possibilità che Sharp ha messo dentro, veramente ci ha messo pochissime cose, una di quelle è dovuta alle impostazioni per quanto riguarda, per quanto riguarda le applicazioni home, dove come potete vedere abbiamo tre settaggi, quindi home normale, junior home, una home semplice, quindi quella con iconi enormi per gli anziani, e poi abbiamo la possibilità, tipo sul sfondo e stile, andare a cambiare lo stile, un po' come vediamo sui vari pixel, con la possibilità qua però di cambiare anche la forma delle icone, possiamo andare a personalizzare la home, abbiamo tante possibilità di griglia, da 5x6, 5x5, fino ad arrivare a un 3x3, possiamo mettere appunto l'indicatore di notifica, mostrare l'app Google, quindi abbiamo un po' di cose, non tantissime, ripeto, lui è veramente, veramente stock, e nell'utilizzo quotidiano questa cosa è fantastica, perché ragazzi funziona, meraviglia, e ripeto, uno dei telefoni più veloci che abbia mai avuto, perché è un fulmine, funziona benissimo, non ha lag, non ha puntamenti, le applicazioni si apriano in una velocità impressionante, io sto registrando questo video con il Vivo X200 Pro, rivela la recensione anche con lui, ditemi come vi sembra, 4k 30 fps con la camera frontale del Vivo, vi dico che ho messo a confronto questi due, lui e il Vivo, per quanto riguarda apertura e chiusura applicazioni, ragazzi siamo lì, con il Vivo che monta però il processore, il top di gamma di Qualcomm, mentre lui monta appunto un 7 Plus Gen 3, quindi un qualcosa in meno, ma grazie al refresh rate così alto del display, ragazzi lui è ottimizzato e va benissimo, è veramente velocissimo nell'utilizzo quotidiano, questa cosa a me è piaciuta tanto. Parliamo poi di app fotografica, quindi parliamo di multimedialità di questo dispositivo, perché veramente avessero messo anche lì, triplo sensore fotografico periscopico, avrebbero forse creato il telefono perfetto, almeno per me. Qua invece troviamo due sensori posteriori, però sono due sensori reali da 50 megapixel, tutte e due, compreso il terzo sensore, che è quello frontale, anche questo da 50 megapixel, questa è una scelta che a me è piaciuta tantissimo, però posteriormente abbiamo un sensore principale, normale, e una ultra grandangolare, quindi non c'è una periscopica, lui infatti con le foto può fare uno zoom fino a 8x, interpolato, uno zoom che lascia un po' il tempo che trova, nel senso che adesso, vi faccio vedere un po' di foto, gli scatti non sono male, di giorno mi sono piaciuti, quindi scatta bene, lui scatta come un buon medio alto di gamma, e riesce comunque a tirare fuori tanti dettagli, nelle foto notturne c'è anche una modalità notte, che non funziona malissimo, anzi, devo dire che mi ha sorpreso, senza infammi e senza roda, diciamo che non è un camera phone, ma fa il suo, per essere uno sharp, mi ha stupito, perché comunque buoni anche i ritratti, cosa positiva, che avendo un software Google, prendendo in stock, ci ho installato la Gcam, la Gcam va a migliorare parecchio, per quanto riguarda le foto, anche a panorami, e parecchio soprattutto i ritratti, poi tra l'altro con la Gcam, abbiamo questa modalità notte, che è un po' più spinta, riesce a fare qualcosina meglio, anche nella definizione, però insomma mi sono trovato bene, buono la grandangolare, che invece è di qualità, la grandangolare ragazzi, fa scatti veramente belli, per quanto riguarda la Gcam frontale, essendo una 50 megapixel, anche qui i selfie saranno superiori alla media, perché hanno messo un buon sensore, quindi bei bei selfie, video 4k fino a 60 fps, video che sono stabilizzati, e adesso vi faccio vedere uno spezzone, quanto lo state vedendo, dove stavo camminando, tenendo il telefono con una sola mano, e devo dire che ragazzi, con la stabilizzazione attiva, lui registra bene, perché ha un'ottima stabilizzazione, devo dire che mi ha forse colpito, più i video di questo sharp, che le foto, il video veramente fa dei video importanti, molto molto belli, molto ben definiti, ma soprattutto molto stabilizzati, quindi sotto questo profilo, ha lavorato molto bene sharp, per quanto riguarda invece l'audio, qui un piccolo appunto, perché ho trovato una cosa, che non ho mai visto in un altro telefono, in dispositivi connessioni, abbiamo la possibilità, di mettere la preferenza dei codec, integrati all'interno dello sharp, ovvero qui abbiamo la possibilità, di abilitare il set Qualcomm aptX, quindi possiamo mettere, o la PTX normale, o la PTX con la qualità HD, cosa che non si è mai visto su Altice, io non l'ho visto, non mi ricordo in altri telefoni, questo fa sì, che se abbiamo delle cuffie di qualità, possiamo, e che queste cuffie hanno il chip Qualcomm S3, e quindi hanno la possibilità, di usufruire di questo sistema, Qualcomm aptX, avremo una qualità generale, dell'audio, che stiamo ascoltando, con le nostre cuffie, impressionante, come vedete, io ho addosso le mie cuffie Clare, che sono cuffie, che io adoro, quelle che ho portato alla recensione, troverate qua sul canale, un confronto che ho fatto di cuffie, queste costano pochissime, ma queste hanno l'audio spaziale, hanno la PTX integrato, hanno tutto quello che devono avere, e devo dirvi che, accoppiate con questo mostriciattolo, ragazzi, si sente da Dio, hanno un audio favoloso, l'audio per quanto riguarda invece, il viva voce, buono, diciamo che non è a un volume altissimo, però è sufficiente, ma buono il fatto che appunto, hanno questo codec integrato, per finire, lui è un IP68, non so se l'avevo già detto, ma è anche certificato per acqua e polvere, quindi veramente non mi manca nulla, e adesso, per concludere, parliamo di batteria, perché anche lì, l'azienda non si è sprecata, qua sotto abbiamo la 5000 mAh di batteria, ha una ricarica 34 Watt, come ricarica veloce, quindi non ha una ricarica 64 Watt, vi dico solo questo, l'autonomia di questo mostriciattolo, è mostruosa, dura 7 ore e mezza di spray acceso, con l'utilizzo normale, ci fate un giorno e mezzo, sempre, potete veramente stressarlo, massacrarlo, giocarci, fare tanti video, tutto quello che volete, lui vi porterà sempre, a sera, ha un sistema proprio di, ottimizzazione generale, che fa sì che l'autonomia, sia incredibile ragazzi, si avvicina all'autonomia del vivo, si avvicina perché dico il vivo ha una batteria molto più grande, e ragazzi il vivo è un battery phone, però lui si avvicina perché comunque 7 ore e mezza, quasi 8 ore di display acceso, questo display a 240 Hz, secondo me hanno fatto veramente un capolavoro, quindi ottima cosa anche l'autonomia. insomma spero di avervi detto tutto, se siete interessati ad acquistarlo qua sotto, vi lascerò un link, è difficilissimo trovarlo ragazzi, sono smartphone che non vengono regalati, hanno un loro prezzo, mi sembra che la base a 8 giga, 128 giga, costa dei 760 euro, la variante come questa, 12 256, tocca quasi 1000 euro, quindi comunque parliamo di smartphone importanti, ma ragazzi lui li merita, questo è un top di gamma, nonostante non abbia il processore, l'ultimo di Qualcomm, è un telefono che è particolare, un display bellissimo, audio ottimo, abbiamo una batteria infinita, abbiamo comunque un comparto fotografico degno di nota, che fa dei bei scatti, che fa degli ottimi video, insomma non gli manca niente, ha l'impronta digitale qua sul lato, che funziona alla perfezione, non gli manca nulla, ha praticamente tutte le bande, ha l'italiano integrato, non dovete far nulla perché lui c'è già l'integrato di suo, non ha applicazioni cinesi, non dovete toccare sulle notifiche perché funzionano tutte alla perfezione, insomma ragazzi è un telefono favoloso, sarà il mio telefono principale, perché questo io me lo tengo, l'ho comprato proprio per tenermelo, e ragazzi mi piace, c'è poco da fare, mi sono innamorato, quindi fino all'uscita del Luvia, penso che terrò lui come mio compagno, così vedrò anche come si comporta lato aggiornamenti, piccolo appunto, l'azienda ha dichiarato, che ci saranno tre aggiornamenti fissi, per quanto riguarda le release di Android, cosa ottima, e quattro anni invece per quanto riguarda le patch di sicurezza, questa cosa è veramente assurda, per se si considerano questo qua, è un brand comunque giapponese, e c'è solo lì, non viene importato in Europa, non viene importato nel resto del mondo, perché c'è lì, mi sembra che c'è in India forse, e basta, però niente, non hanno lavorato alla perfezione, insomma mi è piaciuto, promosso a pieni voti, bello, 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 bello. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando veniteci a trovare sulla nostra community, li metterò tutto quanto, e rimanete sintonizzati, perché adesso poi il prossimo video sarà ovviamente la recensione completa, del vivo X200 Pro, che è il telefono con il quale ho registrato tutta questa recensione, con la cam frontale 4K a 30fps, così mi dite un po' come vi sembra, ma tanto vi parlerò del vivo lungo e largo nella recensione completa, ci sono delle cose da dire, ma poi vi dirò tutto. Io sono Fabio da BreakTech, noi ci vediamo alla prossima, ciao dallo Sharp Acos R9, veramente una scoperta spettacolare, stupendo. Grazie.